Nel prossimo episodio della promessa accadrà qualcosa di assolutamente inaspettato. Jana diventerà improvvisamente milionaria. Ma come è possibile? Un'eredità sconosciuta lasciata da sua madre le cambierà la vita per sempre. Tuttavia, ciò che rende tutto più incredibile è il modo in cui Jana deciderà di vendicarsi di Kruz. Con un colpo di scena che nessuno avrebbe mai immaginato, Jana trasformerà il suo peggior nemico nel suo dipendente. Come reagirà Kruz a questa umiliazione? Sarà disposta a farsi sottomettere da Jana o cercherà di ribaltare la situazione? Ma attenzione, questo è solo l'inizio di un'escalation di sorprese che lascerà tutti senza parole. Ma prima di continuare, se vuoi rimanere aggiornata e ricevere in anteprima i video della promessa, scrivi sì nei commenti. Ricominciamo. Con il ritorno di Jana, il dado è ormai tratto. Kruz sarà divorata dalla rabbia e prometterà di distruggere la giovane donna, ma non avrà la minima idea del potere che ora Jana detiene. Con la fortuna nelle sue mani, la vita della protagonista subirà una trasformazione radicale. E come se non bastasse, Jana scoprirà uno dei segreti più oscuri di Kruz, qualcosa che metterà in ginocchio l'intera famiglia dei marchesi. Quale sarà questa rivelazione sconvolgente che cambierà per sempre le sorti della storia? Ma non finisce qui! Jana non è solo alla ricerca di vendetta, ma anche di giustizia per sé stessa e per Manuel. Dopo aver trascorso anni ad essere vista come un'intrusa, ora ha l'opportunità di riscrivere il suo destino. Riuscirà a riconquistare Manuel o sarà troppo tardi? E Alonso, con la sua fredda indifferenza, cederà mai al potere dell'amore o continuerà a seguire i rigidi principi della sua famiglia. A metà mattinata, Jana deciderà di affrontare Alonso un'ultima volta. Il peso della situazione sarà schiacciante, ma la determinazione nei suoi occhi rifletterà la forza che ancora possiede. Mentre attraversa le sale del palazzo, sentirà gli sguardi giudicanti dei servi, consapevoli del conflitto tra lei e Manuel. Quando finalmente si troverà di fronte al marchese, l'aria sarà densa di tensione. «Ti prego, dammi un'altra possibilità», dirà Jana, con la voce tremante, sperando di poter ancora salvare il suo amore per Manuel. Alonso, tuttavia, rimarrà impassibile. Con freddezza, le consegnerà una busta, dentro la quale c'è una lettera che spezzerà definitivamente il cuore di Jana. Manuel è destinato a sposare un'altra donna, scelta dalla famiglia Marchesi. Come reagirà Jana a questa notizia? Sarà in grado di accettare il matrimonio forzato del suo amato o deciderà di lottare fino alla fine? Vuoi sapere come andrà a finire questa drammatica vicenda? Scrivi nei commenti se pensi che Jana debba combattere per il suo amore o per il suo amore. o se dovrebbe lasciare per sempre la villa dei Marchesi. Nel frattempo, l'atmosfera nella villa sarà elettrica. La nuova pretendente di Manuel, Sofia, farà il suo ingresso trionfale. Proveniente da una nobile famiglia, la giovane donna sembrerà perfetta agli occhi di Cruz e Alonso. Ma non tutti saranno contenti del suo arrivo. Sofia sarà accolta calorosamente. Ma Manuel, assente in quel momento, sarà sempre nei pensieri di Jana. Cosa succederà quando Manuel tornerà e scoprirà che il suo destino è stato deciso senza di lui? Jana, distrutta dal dolore, troverà conforto nella sua amica Pia, che l'accoglierà nel suo nascondiglio segreto. Qui, tra lacrime e confidenze, Jana cercherà di raccogliere le forze per affrontare ciò che sembra un destino crudele. Ma proprio quando tutto sembrerà perduto, un misterioso pacco cambierà il corso degli eventi. Romulo, un servo della villa, le consegnerà un pacco appartenuto a sua madre, Dolores. All'interno troverà gioielli di inestimabile valore, un tempo appartenuti a sua madre e che racchiudono un segreto pericoloso. Cosa riveleranno questi gioielli? I gioielli di Dolores, infatti, saranno la chiave per svelare un segreto nascosto da anni, un legame tra Dolores e Alonso, qualcosa che potrebbe distruggere per sempre la reputazione dei marchesi. Jana, con il pacco tra le mani, si sentirà combattuta tra il desiderio di vendetta e la paura di ciò che potrebbe scoprire. Riuscirà a utilizzare queste informazioni per ribaltare la situazione a suo favore o deciderà di mantenere il segreto per proteggere Manuel? Il cuore di Jana sarà diviso tra amore e vendetta e il destino della famiglia Marchesi penderà da un filo sottile. Cosa farà Jana con questo potere nelle sue mani? La risposta a questa domanda potrebbe sconvolgere completamente la trama della promessa e la verità verrà finalmente a galla in modo drammatico e inaspettato. Non perdere i prossimi episodi per scoprire come Jana userà queste informazioni e cosa succederà alla famiglia Marchesi. Se vuoi continuare a seguire tutte le novità sulla promessa, non dimenticare di iscriverti al nostro canale e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato. Scrivi nei commenti cosa pensi che accadrà dopo questa scoperta scioccante, ma attenzione, le sorprese non sono finite qui. Alla fine, Jana si troverà di fronte a una decisione impossibile. Scegliere tra l'amore per Manuel e la vendetta contro una famiglia che l'ha sempre trattata con disprezzo. Quale sarà la sua scelta? Le conseguenze di ogni sua azione potrebbero cambiare per sempre il corso della storia. Non perdere il prossimo episodio, perché niente sarà più come prima in La Promessa.